Allora, siamo alla pausa, diciamo, cena dei lavori del 31-10, ormai 31 ottobre, il terzo giorno del quindicesimo congresso di Radicali Italiani, siamo in compagnia di Johnny Danna, tesoriere di Radicali Roma, c'è un sole forte che lui si è messo ovviamente gli occhiali, e Johnny, che è interno alle logiche romane, in qualche modo, ci illustrerà un pochino come ci dirà ovviamente le sue impressioni sull'andamento del congresso, adesso si comincia ad andare verso la fase che potremmo dire calda, in cui i pontieri cominciano a lavorare e si cominciano poi a materializzare le candidature per gli avvicendamenti, se ci saranno appunto avvicendamenti o le conferme delle cariche elettive che sono appunto presidente, segretario o tesoriere dell'associazione del movimento. Ecco Johnny, intanto parliamo del, insomma, fino adesso come ti è sembrato questo congresso. Io penso che la Cremonese abbia fatto un'ottima campagna acquisti quest'estate, tuttavia il pareggio di stamattina, di oggi pomeriggio con l'Albino Leffe sia stato duro da digerire per una piazza che comunque meritava di più. Detto questo, come vedi il congresso? Il congresso, siamo all'anno zero, siamo all'anno zero di radicali italiani e veniamo da un anno politicamente veramente tosto, dove sono successe veramente di tutto e di più e portare avanti. E nonostante questo, ovviamente la morte di Marco, il congresso di Re Bibbia, le elezioni amministrative, nello specifico di Roma il tentativo referendario sugli Olimpiadi, la campagna Legalizziamo, quindi veramente un anno che sembrava non finire mai, non perché è stato solo negativo, anzi, devo dire che arrivati al congresso, aver riuscito comunque a mettere in piedi tutte queste iniziative, sia stato, viste le condizioni anche interne di struttura, ma anche interne politiche, sia stato veramente un buon risultato di resistenza da parte del segretario e del tesoriere di radicali italiani e devo dire anche del segretario e del tesoriere di radicali Roma e dei compagni che si sono mobilitati per strada a Roma a partire fondamentalmente da gennaio, non si sono mai fermati e quindi veramente da quando io sono militante radicale è stato l'anno più intenso politicamente ed emotivamente anche, ovviamente per la morte di Marco. Uno di questi traguardi, di questi impegni di questo anno che tu hai citato è stata, prima hai detto, le elezioni amministrative a Roma per il sindaco, poi sappiamo com'è andata, abbiamo adesso un sindaco che è Virginia Raggi, 5 Stelle, quindi insomma il carrozzone su cui stavano in qualche modo i radicali non è quello che ha vinto e che appunto sostenevano Giacchetti. Ecco, tu come valuteresti l'operato radicale ovviamente circoscritto alla esperienza romana? Ma, diciamo, le elezioni sono passate e quindi posso dire che effettivamente io ho un po' sofferto la scarsa qualità della campagna elettorale di Roberto Giacchetti, tuttavia alla luce di questi primi sei mesi di Virginia Raggi, mi sono veramente accorto che sia stato un errore incredibile che molti cittadini hanno fatto votare Raggi, che ho in parte compreso alcuni anche compagni radicali che hanno fatto magari disgiunto e quindi dicevano no, va bene votiamo 5 Stelle per punire il PD romano, però veramente la situazione, soprattutto sulla questione dei migranti, la questione dei rifiuti, è veramente imbarazzante, questo su Roma, rispetto alla giunta Raggi. Devo dire che comunque resta la mano in bocca perché il confronto in campagna elettorale con Roberto Giacchetti è stato molto difficile, credo che Roberto Giacchetti avrebbe dovuto valorizzare maggiormente la lista radicale, ne avrebbe guadagnato sicuramente come piattaforma e proposta politica, ne avrebbe guadagnato sicuramente come forza e prospettiva della sua campagna elettorale. Siamo arrivati a degli assurdi come quello della candidatura di Nathalie Naim buttata fuori dalle liste della lista civica Giacchetti per via del codice interno, recuperata dalla lista radicale che poi ha permesso, con le sue mille preferenze, ha permesso la vittoria del centro-sinistra del primo municipio. Quindi poi la cosa sarebbe tragicomica, e non uso questo aggettivo perché tragicomico pare essere invece la giunta raggi. Purtroppo possiamo dare complessivamente della giunta raggi la responsabilità del PD Romano che insomma ha consegnato complessivamente, ma aspetta adesso volevo farti un'altra domanda allora io volevo chiederti, tu hai accennato al fatto che ci siano stati dei radicali in qualche modo che hanno fatto una propaganda o almeno si sono fatti sentire promuovere non il candidato all'interno del quale i radicali operavano con una lista propria, ma i 5 Stelle. Quindi c'è stato all'interno del movimento, non so se per forza all'interno dell'ambito romano, perché parliamo della mestiere romane, anche una sorta di tra virgolette dissidenza nel promuovere gli altri. No, no, di compagni radicali non candidati e anche moltissimi cittadini che conoscevano Maggi che hanno votato Raggi e la lista radicale. No, la situazione del raggiunto Raggi è imbarazzante, ma c'è da dire che non c'è opposizione a Roma, cioè questo dimostra tutta poi anche un po' veramente la meschinità del PD Romano che non fa di tutto per non spingere verso una soluzione, parlo dei consiglieri comunali per trovare una soluzione rispetto a tante questioni aperte, ma anche banalmente, relativamente banale, la questione del referendum sull'Olimpia di no, avrebbero potuto spingere per aprire, fare votare una mozione consigliare sul referendum, questo non è stato possibile, avrebbero potuto prendere un'iniziativa sulla questione del Baobab, avrebbero, sembra che invece esattamente come Virginia Raggi è assolutamente in difficoltà anche perché Roma è nell'occhio del ciclone sul palcoscenico nazionale e quindi ci sono logiche nazionali, anche il PD su Roma è assolutamente immobile, non propositivo e non si sa cosa stia facendo in consiglio comunale, credo abbia sette o otto consiglieri comunali. Sì, il PD io per quanto riguarda, seguiamo anche con Libri TV il settimo municipio, dobbiamo anche dire che l'operato della giunta Raggi ancora, insomma, di questa giunta si è riuscita a comporre dopo mesi, non so neanche se è arrivata effettivamente con il capo di gabinetto effettivamente a un assetto definitivo, ancora bisogna capirlo, in qualche modo bisogna ancora capire come lavore l'anno. Vieni, venimi vicino così, così ci dobbiamo. Poi c'è anche da dire che alla fine se abbiamo Virginia Raggi è perché non ci hanno, il motivo per cui abbiamo trovato Virginia Raggi come sindaco di Roma è perché non ci hanno spiegato perché hanno fatto poi Marino, con tutti gli immensi limiti di Marino. Per quello che dicevo che il PD ha consegnato Roma a 5 Stelle, la questione dei scontrini mi sembra che si sia risolta e dobbiamo anche per giustizia dirlo, che in canzio prima da questa cosa sembra sia uscito pulito, però una cosa volevo dirti ancora, chiederti, insomma per quanto riguarda la questione Olimpiadi, effettivamente il PD non ha aiutato, non ha mosso neanche la sindaca con tutta la retorica della partecipazione dei 5 Stelle, appunto, quindi non vi hanno aiutato per quanto riguarda la proposta radicale del referendum, però poi alla fine, diciamo, in Sordonia, alla fine si è pronunciata contro, che è un po' anche diciamo l'indirizzo dell'ambito romano dei radicali, insomma, che non erano entusiasti per queste elezioni, quindi tutto sommato partire poi per una crociata di raccolta firme, che comunque si è venuta a stare, insomma, la siete risparmiata questa. Diciamo che le motivazioni per cui si è posta contro le Olimpiadi sono talmente scadenti che mi fanno quasi non dire meno male che non le abbia fatte, perché ha dimostrato veramente la totale inconsistenza, ma non di governo, di dice, no, ma come un sindaco deve accettare queste sfide, no, il sindaco poteva semplicemente motivare il motivo e quindi, diciamo, sputtanare fra virgolette, no, senza virgolette, il progetto Malagò, il progetto, possiamo dire anche, diciamo, Caltacirone-Malagò sulle Olimpiadi, invece si è completamente trasceso dal merito e si è sbandierata l'onestà e la stessa logica per cui non si riesce a fare uno straccio di bando per risolvere la questione Baobab, quindi c'è la... l'immobilità non è l'onestà che andrà di moda, ma è l'immobilità che andrà di moda e affosserà la città. Insomma, chiaramente per quanto riguarda l'aggiunta raggi, insomma, adesso, ripeto, ancora dovremo vedere un po' le cose più importanti, anche tutta la questione partecipata, l'ATAC, vieni vieni più vicino, vieni. Le parole del nuovo assessore sono sembrate completamente in controtendenza rispetto alla campagna elettorale della Raggi, però invece lì ci ha un po' stupito, però fino adesso sono solo dichiarazione, ma insomma ha detto che l'impostazione del tutto pubblico è mera retorica. L'ATAC ha detto che è un patrimonio romano che deve restare... Il patrimonio dell'UNESCO, certo, sì, 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 no, ma infatti appunto, quindi evidentemente c'è una... c'è una... un noiato totale fra la campagna elettorale... allora a che serve la campagna elettorale? Serve semplicemente per fare quello che facevano gli altri partiti in modo orientelario, in modo populista, prendere semplicemente consenso, spaparanzarsi sul potere, al potere e poi che cosa fare, cosa? Cioè, la Muraro è completamente, a dirà delle questioni processuali, ma il movimento del rifiuti zero, della grande innovazione ecologica del modello San Francisco chiama chi più di tutti è stato protagonista del modello Cerroni. Ha detto anche a Muraro che la discarica di una grotta forse si è chiusa troppo presto e che insomma lascia pensare... È perfettamente coerente al modello Cerroni, poi magari non vogliamo essere maliziosi e potremmo dire, ora poi magari non vorrei che questa registrazione venga sentita dagli ervolini e mi tira le orecchie, però da quel poco che io ne so di rifiuti effettivamente parlare di discariche zero è quasi impossibile, comunque una forma residuale che difficilmente scende poi sotto il 10% di rifiuti comunque devi mandare in discarica. Non si è capito se la Muraro si riferiva al business di Cerroni quando dice che la Malagrozza è stata chiusa troppo presto oppure si riferisce, speriamo noi, al fatto che è illusorio dire cittadini che non si faranno mai più discariche in assoluto. Ho capito. Beh insomma vabbè abbiamo fatto, abbiamo detto certe cose non molto diciamo pro 5 Stelle, beh diciamo che sì però di respiro nazionale può darsi anche che questa, che la performance che sarà quella che sarà e vedremo dal Movimento 5 Stelle a Roma abbia una influenza anche sul movimento a livello nazionale perché insomma può darsi anche che sia considerato un banco di prova importante che poi in qualche modo influirà per quando ci saranno insomma elezioni politiche e così vero. A livello nazionale i 5 Stelle non mi stanno già dando grandi prove di totale irresponsabilità, incapacità e pericolosità di andare al governo non lo so, però comunque diciamo stanno ampiamente dimostrando quanto siano inconcludenti e rientrino, siano fra i movimenti comunque che più vogliono chiudere il paese, vogliono escludere, vogliono togliere merito, vogliono togliere concorrenza, vogliono togliere libertà, non parlo di dittatura, queste cose, la dittatura del sacro blog e poi le questioni interne dei partiti poi alla fine sono sempre questioni di opacità e quindi un po' come tutti gli altri partiti ma parlo semplicemente proprio come lo dicono alla luce del sole che sono la direttiva Volkestein, sono contro il TTIP, l'euro, l'euro una volta sì un po' no, poi Di Maio deve fare istituzionale quindi completamente in balia del consenso, cosa che Urrenzi fa ma non a questo livello così diciamo degradante per la politica stessa, loro sono contro i corrotti ma idealmente corrompono l'idea di politica, secondo me citando il grande Davide Tutino. Salutiamo Davide Tutino che si è fatto un anno e mezzo, quasi due anni di consigliatura nel settimo municipio che LibriTV conosce molto bene, che è sempre stato abbastanza poco valutato nell'ambito radicale in questa sua missione che stava lì, comunque sia in un consiglio che rappresentava 350.000 persone e volevo chiederti invece nell'ambito radicale, ecco qui questo congresso come ti sembra ci sta una sorta, io la chiamo, mi arrogo per carità il diritto di esagerare ma insomma una girada interna, alcuni ci sono, alcuni non ci sono, le lettere di Maurizio Turco, insomma come vedi questa situazione, ne vedi uno sbocco, insomma cominciare il prossimo anno con una lettera come quella che è arrivata recentemente dal spreni potenziario, adesso non so neanche come chiamarlo, ma l'ha chiamato l'univoro, univoro, aspetta, no l'ha chiamato, un inviro, un unviro, un unviro, ecco un unviro e quindi come la vedi? Ma guarda, io dopo quattro anni di giad, di cosa mi vorrebbe da dire, ci abbiamo a far politica, non c'è buon tempo da perdere, dopodiché è chiaro che Gianfranco Spadaccia ha parlato del dolore della sua generazione ma anche di radicali, sono venuti dopo di lui nel vedere probabilmente riferendosi a Marco Cappato, nel vedere l'esito di Re Bibbia come uno strappo unilaterale, gratuito e quant'altro, devo dire c'è anche la grandissima mare in bocca da parte di radicali come me che hanno meno di 40-45 anni, non hanno mai potuto vederlo, vedere le iniziative trasnazionali del partito radicale e anzi richiamandosi al partito radicale abbiamo visto giustificare tutto il suo contrario, contraddizioni che si sommano una dopo l'altra, fregnacce ripetute e urlate e strillate che si scolpiscono nella pietra come verità assolute, come dogma, statuti sostituiti da preamboli, preamboli usati come clava, io sinceramente penso che ci abbiamo fatto, dobbiamo ricostruire da zero un movimento radicale, probabilmente con tutte le difficoltà di un movimento che parte quasi esclusivamente da zero, forte solo della sua storia, l'iniziativa legalizziamo grazie a Matteo Mainardi, Antone Lasoldo, Matteo Ariano, Barbara Bonvicini e Riccardo Maggi che ci ha creduto più di altri, ha dimostrato che ci sono molti compagni disposti ancora a scendere per strada e farsi il mazzo e ancora si stanno facendo il mazzo con le certificazioni e insomma mi piace più di parlare di questo, non ho un lutto da elaborare se non quello della morte di Pannella, non ho un lutto da elaborare su che c'è stata Re Bibbia quindi forse non ho la stessa sensibilità di altri compagni su questo, però evidentemente sono molto deluso perché ovviamente non avendola vissuta mi affascina mi ha sempre affascinato enormemente un partito trasnazionale, sono convinto che forse più che un partito oggi sia il caso di fare delle iniziative perché poi forse quelle sono riuscite meglio negli anni in cui il partito trasnazionale faceva politica erano le iniziative non tanto il consolidarsi del partito o comunque il formarsi, l'organizzarsi, oggi invece siamo all'autolegittimarsi di un coordinamento di una presidenza, di un insomma si scagna anche in un burocraticismo sovietico abbastanza patetico. Ok, allora in chiusura soltanto una risposta secca, una domanda secca, domenica ci sarà una marcia per l'amnistia, sarà presente Radicali Roma? Sarà presente Radicali Roma, io marcerò per l'amnistia senza alcun problema, non perché me l'ha detto il Papa, perché io sono per la pulire le galere. Grazie, grazie.